Si parla di funk carioca, si parla di MC Fiotti, rapper brasiliano che nel marzo 2017 pubblica Boom Boom Tam Tam e nel dicembre dello stesso anno esce il remix on J Balvin, Steph London e Juan Magan che la rende famosa in tutto il mondo. Forse non tutti sanno che il brano usa un campionamento del movimento Allemande incluso nella partita per flauto solo di Joan Sebastian Bach. Amici ed amiche, Boom Boom Tam Tam. Benissimo ragazzi, questa ero io con il mio meraviglioso corpo di ballo, ma non sono non vi preoccupate che potete anche ripetere queste coreografie da soli sotto l'ombrellone, se le fate non dimenticate di taggare Radio 105.